Ok, mi sono arrivati i tag Ah, allora io posso già... Sì, sì Vediamo Allora io ho... Ok, se vanno le notifiche... Non mi è arrivato ancora Ma perché è così lento il soggetto? Beh, siamo... 3, 4, 5, 5 computer Non mi è arrivato il tag Ancora, eh? Se tira una prossima mi porto con l'esterno C'è la connessione... Allora, questa è una pagina radio interna Qua, giusto? Qual è il tag? Questo qui Ok, è più veloce farlo da qui Avviva il video, parti ora? Posso farlo già ora? Eh, sì, sì Io ho due profili e due pagine Ok Una in draggiosa è questa E l'altra ho aperto con due browser Ok, si può fare così E poi farlo tu Cosa posso fare adesso? Avvio e basta? Due profili e due pagine Collegate, le pagina sono collegate a profili diversi Salve, tracchiggi vari Non so cosa che tracchiggi è bellissima Tracchiggi onesti però Scusami se lo dirò male in siciliano Conunti e tutto il resto Ok E qui sta sopra Io ancora aspetto la grazia Adesso siamo in diretta, sì E ora faccio avvia? Facendo così si avvia il video Ok E nella pagina si può fare pure O soltanto nel profilo Penso si possa fare pure La vediamo Ah, ecco così Devo stare così, giusto? E io qua dove sono? Perché non vorrei fare Ora, ora Sistiamo la camera Aspetta Vai pure nella pagina Questa è un bel E poi pure E qui possiamo fare Quasi fa Abbassiamo i volumi? Assolutamente Ma io con l'ho proprio preso quello Qua mettiamo Il link Nel video party E lo pubblichiamo Perfetto Qua è sull'altro Adesso questo Tutto il broco Questa qui? No, no Qua sull'altro broco Ah, ok E qua c'è l'altra pagina Nell'altro profilo Questo è il profilo Io lo posso fare anche da qui Ah, certo Scusami Continuiamo Sulla pagina Auguri da Palermo Carina questa Questo racconto Mancano dieci secondi Mettete le cuffie Certo Ok Io non ho fatto assolutamente niente Puoi anche abbassare se vuoi Per mettere una pagina Ok, dopo lo facciamo Cuffie, cuffie Efecto musica A Palermo Radio in Radio in E buongiorno a tutti Benvenuti Sia Artaparte Buongiorno Dada Buongiorno Barbara Buongiorno a tutti voi Buongiorno Gaspare Oggi sono Roberta E lui è Francesco No Abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Giostra Sì Che nonché è autore Scrittore Eccetera 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 Ci racconterà tutto questo Eccetera Ci sti puntini da riempire Che sono tanti No? Sì Però da Cina sarà così Da piccola Ma io sono In effetti Intanto Grazie a voi Del vostro invito Saluto Tutti i vostri Ascoltatori Che so Essere tantissimi Ma intanto Io non mi Intanto io non mi definisco Uno scrittore Cioè mi definisco Uno che scrive Uno che scrive Che è già una cosa Molto diversa All'essere uno scrittore Insomma mi piace Da sempre Da bambino Però per essere uno Che scrive Hai scritto tanto Eh sì Vabbè Sì Ha scritto bene Nel senso che comunque È molto letto Tanti hanno scritto Magari sono più proliferi Però insomma hanno Eh di questo ne parliamo Perché è una cosa Secondo me molto interessante Da raccontare Per come io l'ho Diciamo Fatta in maniera Proprio spontanea Senza che ci fosse Dietro un progetto Di questo tipo Però evidentemente Questo modello Che ho utilizzato Diciamo in maniera Proprio spontanea E poi artigianale Tipo un carnet di viaggi Diciamo Ha portato A questo tipo di Diciamo Di quantità Di lettori Interessati È notevole E non solo Anche premi notevoli E se abbiamo Hai appena Lì il premio Un buon ricordo Ricordamolo tu Mi perdono Mi sono terribile Milano Milano è stato il primo Milano International Un premio letterale Diciamo importantissimo Ma quella è stata Un'esperienza È stato il primo In assoluto Ma un'esperienza Estamente particolare Perché è stato un premio Che ho vinto Senza neanche partecipare Sì sì Era fuori Fuori dalla Da Infatti è stata Una cosa strana Perché quando mi ha chiamato Il presidente Del premio Al telefono Pensavo fosse uno scherzo Perché mi dice Ah lei ha vinto un premio Ma quale premio Io non partecipo Stavo sbagliato Dice no no Diceva Mi spieghi Il solito scherzo Telefonico Insomma poi Mi ha spiegato Come era avvenuta la cosa C'era stato un membro Della commissione Che aveva segnalato Queste novelle Che si leggono E queste sono Tre delle caratteristiche Diciamo mie Che si leggono Dall'attivamento online Quindi i miei libri Si possono pure comprare Con prezzi bassissimi Però diciamo Fondamentalmente Sono tutti Che si possono leggere Dai vari portali Dal mio sito web Dal blog Dalla pagina facebook E quindi Questi Diciamo Membri Avevano letto Queste novelle Quindi avevano deciso Di Insignirti E questo è stato il primo Anzi veramente il secondo Perché prima è stato un altro Pochi mesi di prima Insomma Con la stessa modalità Di non partecipazione Chiaro Per uno che non scrive Che non partecipa Con corsi Insomma Non ti è andata Malissimo Poi Chiaramente Cercheremo le chiavi Del suo Scameremo Un pochettino Soprattutto Perché questa passione Da dove viene Qual è la sua La tua massima ispirazione Queste cose le dovremo Un po' conoscere E sapere Certo certo Vabbè Musica maestro Ok E qua si è oscurata Vedi io sono Durante la diretta Cioè quando c'è la musica Siamo sempre in diretta Facebook Quando c'è la pubblicità Già hai visto? E quindi Io non ho capito E qua si è oscurato Perché? È normale? No No È partito Il suo Cucchio Ma È di aggiornato Eh sì Eh sì 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 È un po' È un po' Niente A volte Tremendola Io ho fatto Il mio Di fatto Lo Lo Giorni Di Vole Perché È questione di Va bene Tanto io lo vedo qua Intanto Sì però lo puoi vedere da lì Cioè Ok Vado Parte a parte No parte a parte Se lo stanno facendo Non si vede Abbiamo Condividi No Prima condividi Ok ce l'abbiamo qua Condividi Condividi intanto Prima la condividi Nella mia Poi vado nella mia Esatto È da Sì Ok pubblico Intanto saluto qua C'è un'altra cosa Che è più importante Che l'abbiamo fatto Ok Ok adesso vado nella mia Ma è bloccato perché Perché non c'è connessione Per adesso Perché la connessione è un po' lenta Ah ok ok Perché comunque siamo Cinque computer Ah sì Certo Ok E poi lo puoi fare anche Guarda Se tu per esempio Clicchi su uno di quei gruppi Avvia Te lo avvia All'interno di quel gruppo Ah Lo devo fare io E se vuoi lo puoi fare Sennò da qui Cominciai a imparare È perché è più faticoso In questo modo Tipo cliccare su Allora puoi farlo in quel modo Quindi è arrivato indietro Sì Aspetta In realtà va bene Sì Chiudo Vai nel tuo profilo di nuovo da capo Intanto Lascia questa parte Ok Sono sul video party Sì Se è già quel video party E quindi Ti stavo dicendo Per ritornare Alla tua esperienza E là va bene Vito Se la possiamo Terminatori Hanno fatto questo Diciamo Ovviamente inconsapevole Mentre Di non Di parlarmi Solo in italiano Quindi io Fino a cinque anni Non conoscevo Il dialetto siciliano Quindi quando ci siamo Terseriti qui Cioè per me Che tutti i miei Aspetta di nuovo Di nuovo Do eri prima Io sono andato In Svizzera E la mia infanzia L'ho passata in Svizzera Perché i miei genitori Lavoravano lì Anch'io so Ho passato qualche anno Della mia infanzia in Svizzera A Cransiorciere No io Vicino a Zurigo Piccolissima In una stazione in Svizzera Vicino a Zurigo Dai che bello Quindi ti parlano solo in italiano Chiaramente Certo Perché chiaramente Secondo me sbagliatissimi No ma senti Allora le mie figlie Sono andate in Cile Dovano parlare Sì all'italiano Da padre belga Andate in Cile La padre belga Mamma italiana Quindi è chiaro Che io parlavo solo italiano Mio ex marito Solo francese E il mondo poi Attorno a loro Si occupava dello spagnolo Quindi è chiaro Che comunque È stata una scelta Quanti anni No adesso Siamo tornate No no Quanti anni avevano i tuoi figli Sono nati là Allora Pintiamo Ed erano in negro Amaro E te l'abbiamo dedicata La giostra Andrea Grazie Ma guarda Abbiamo fatto onore Al nostro ospite Insomma un sacco di canzoni Comunque la giostra Vedrai che comunque Ci sarà Un cognome ludico Che molti invidiano Bellissimo Ti fatti Che la tua vita È una giostra Ma non lo so Bella Bella questa domanda Così qualche volta No come per tutti No come per tutti Credi Chiaro Sì 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 E vado appunto La giostra Diciamo che a volte gira In modo positivo A volte in modo negativo Vabbè come tutti Ricordiamo che abbiamo Questo splendido esemplare Andrea giostra Andrea giostra Che scrive Autore e scrittore Ma lui si definisce Uno che scrive Cura 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 Ti occupi anche di curatela Insomma Un po' di cose le fai Una domanda La dobbiamo fare Com'è nata Questa tua passione Questa tua E infatti Stavo dicendo questo prima Questa passione Per la narrazione Per i racconti Nasce con mia nonna Mia nonna Diciamo vite Mia nonna paterno Sempre Che Io mi ricordo Bambino che ci incantava Ma e poi gli altri cugini Che sono venuti dopo di me Con le sue storie Che poi lei Si inventava di sana pianta Non è che fossero Tattico Aveva una struttura narrativa E lì cominciava a raccontare Io mi ricordo Che bambino Quando andavo All'elementare Quindi avrei avuto 6-7 anni Diciamo quella fascia di età lì Mi ricordo Che aspettavo Che mi venisse La febbre L'influenza Qualche cosa Per stare con la nonna Per stare con la nonna Perché così Io stavo a casa a letto E mia nonna Che abitava Nella mia stessa palazzina Lei abitava I primi due piani E noi Diciamo gli altri due Quando io ero a casa Stavo ormai Lei saliva Si metteva accanto a me Vicino al letto Io facevo finta Che stavo male Anche se non so Lei si metteva a raccontarmi Questa storia Era meraviglia Per ora ed ora Io ero lì Che l'ha ascoltata Proprio incantato C'è chi vuole Maria La scuola L'ha fatto i compiti Lui per restare con la nonna Dico già là Un po' con sonurido Eri diciamocelo Sì Nel buon senso buono E quindi poi Quando lei se ne andava Io continuavo Con la mia mente A fantasticare Queste storie Incredibili Di principi Di principesse Di cattivi Quanti ne avevi E la fascina E la scuola elementare Perché io sono tornato Alla Svizzera Che avevo cinque anni Cinque anni e mezzo E quindi diciamo Tutto il periodo È il periodo Di quelli proprio Dove c'è fantasia È il periodo in cui Se hai qualcuno Come per me Mia nonna Che ti inculca Questa cosa E la narrazione Del racconti Del fantasticare Del mettere insieme Tutta questa cosa Perché la sua storia È una storia fantastica Probabilmente Se fosse nata Qualche anno dopo Avrebbe potuto Lai scrivere Diciamo Una serie di libri Tipo Harry Potter Perché erano di questo tipo Sì perché c'erano Tutte cose Queste cose incredibili Di magia La buccia di noce Che diventava un calesse La mosca Che diventava un'aquila Cioè cose Cosa pazzesche E quindi Questo è un progetto Magari a raccontare E da recuperare Sì Io recupero questa memoria Poi giustamente Vengono fuori Tutte una serie di cose E diciamo Che è iniziata lì Questa cosa Che poi io Per i fatti miei Poco a poco Insomma mi scrivevo Questa cosa Ricordandole Da mia nonna Che mi le raccontava E poi insomma Piano piano Mi sono appassionato Anche alla lettura E poi insomma Tutto quello che poi Ma diciamo Nasce Quindi hai letto tanto Questo È stato quasi un bisogno Di appuntare I tuoi pensieri Insomma anche in momenti Ho letto Dico In momenti in cui Magari insomma L'anima molto entusiasta Di quello che succede Attorno E quindi Appuntare Il libro è un po' La lettura è un po' Il rifugio Come dice Sì è vero È vero Sono racconti brini Ma ne parleremo dopo là Pubblicità Per saperne di più Baronegommepalermo.com Barone Gomme È a Palermo In via Pirandello Diciotto trentadue E in via Le regione siciliana Cinquemila trecentosettanta Accanto Burger King Lo sai che si deve pulire Sopra e sotto Sì Up and Down Prego Sì Up and Down Si chiama proprio così L'impresa di pulizie Che ho già contattato Ho letto su Facebook Pulizie condominiali Civili e industriali Pulizie cisterne e piscine Disinfestazione ed eratizzazione E poi espertissimi Nella lucidatura Con le tecniche più moderne Di ogni tipo di pavimento Allora ha deciso Up and Down Oh yes Allora prendi il telefono E fai 342 18 56 415 O 366 32 51 493 Il Teatro Biondo di Palermo Diretto da Pamela Villoresi Comunica che se hai Meno di 25 anni O sei uno studente Puoi acquistare un abbonamento A 11 spettacoli in galleria Con soli 35 euro Se non ho capito male Sono 3 euro e 20 a spettacolo Sì Hai proprio capito bene Se invece vuoi stare seduto In platea 14 spettacoli Li pagherai 70 euro Allora ragazzi Cosa aspettiamo? Tutti al Teatro Biondo Se volete dare un'occhiata Al programma di teatro Musica e danza www.teatrobiondo.it Radio In La voce della tua città Siamo su Facebook Salutiamo Salutiamo I nostri amici Radio In Siamo qui con la giostra Con la giostra E con Barbara Con Dada Dada È Dada Infatti Per loro sono Dada Qui per loro è bellissimo Dada è nato da qualcosa Perché diceva Come Io mi chiamavano Dada Quando facevo la clown Era una clown Facevo clown E quindi da là I miei amici clown Loro solo Dada E ha detto Vabbè Chiamavano Volete un nome d'arte? Dada Perché Bello Dada Come è Dada Il teatro Esatto Quindi Joker L'avrai visto Bellissimo Strepitoso Lui è strepito La prima mezz'ora Puoi dormire Cioè Che ha scritto Poi inizia Un crescendo A parte è One Man Show È proprio incredibile Bravissimo Grandissimo Ma si è trasformato Anche nel fisico Sì fisicamente Era in riconoscenza Ma è Magrissimo Ma è piuttosto belloccio Però là era Inesistente Cioè Chiudavano le osse Bello 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 Ora ci dovremmo aspettare Il prossimo Batman Perché è chiaro Che adesso Chiamavano È pronto È chiaro Ma l'avranno fatto Anche poi Il Il Sì Che deve essere il primo Ma il messaggio Che è venuto fuori Da questo film È che pochi hanno colto Perché mi sono letto Un po' di recensioni Una delle cose che faccio Per esempio Per scrivere pure di cinema Quando ho tempo Non è che Fa tante cose In due magazine Che voglio ringraziare Qui Anche se non siamo in diretta Che sono già Movie Che è un magazine italiano Importantissimo Uno dei più letti in Italia E poi un altro Che si chiama Fare film Bello Fare film Quindi ti vai A fare una sorta di Insomma Critico C'è una piccola Che ti vai a vedere il film Lo guarda In teoria Lo guardi Certo Non ho continuità Perché insomma Faccio troppe cose Forse però Quando posso farlo E vedo un film Troppe cose forse Adesso la confessione Scusate Ma non ti fermare Perché sei credo Della longevità Ma ho un grandissimo difetto Quello che mi annoio facilmente Quindi se non Sono impegnato Mi appassiona Qualunque cosa Mi capita anche a me Faccio una cosa Poi me ne vado Se mi annoio Faccio altre cose Sì Capita anche a me E quindi dicevo Su questo film È una cosa Che è stata poco Couta Sto guardando Io non li posso leggere Buongiorno Buongiorno Saluti affettuosi Da Montelepre Complimenti al nostro Concittadino Ah sei di Montelepre Sì 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 Condividete Magari tipo È che io Questo cosa Non so Veramente Rispondere Devo togliere L'audio Devo togliere l'audio Ma come fa Ok Fatto Non c'era Non c'era Ma dai Mulla e ciado Entriamo Non posso I can't Vai Michael Oldfield Mulla e ciado Qui a Radio in 102 E stavamo parlando Con il nostro Andrea Giostra E le sue Com'è nata Questa sua Passione Dalla nonna Sì E poi Dimmi Ma ti sei ispirato A qualche Autore Scrittore Magari Locale No no Vabbè ispirare Un grande Quello Quello Diciamo no Leggendo tanto Non ti sei ispirato Però sicuramente Io ho diciamo Tre autori Che sono quelli Dal mio punto di vista E che mi hanno Diciamo forgiato Da questo punto di vista Diciamo della scrittura Ma non c'entra niente La mia scrittura Con questi Diciamo Grandissimi Scrittori Di cui vi dirò Adesso Che sono stati Cioè in ordine Di tempo Perché poi Quando ho cominciato Le medie Il liceo Ho cominciato A leggere Pirandello Che mi ha appassionato Ho letto tutto Ho fatto pure La mia tesina Diciamo Del liceo Su Pirandello Bellissimo Poi ho finito Poi ho finito Pirandello E un altro Che mi ha Mi ha appassionato È stato Dostoievski Del quale ho letto tutto E l'ho anche studiato In maniera approfondita Perché poi Il passo successivo Quando ho cominciato A fare l'università E sono laureato In psicologia Ovviamente Freud Sigmon Freud Che ho studiato E approfondito Di là della laurea Anche dopo Avere concluso Gli studi Perché ho continuato A collaborare All'università Con il mio professore Che è uno psicoanalista Diciamo importantissimo Lucio Sarno Che non so se mi ascolterà Che saluto E quindi Oltre ad essermi In psicologia Poi ho collaborato Con lui Per cinque anni Ho fatto anche Diciamo Una specializzazione Biennale Un approfondimento Biennale Alla scuola di psicoanalisi Quindi su Freud E su tutti gli autori Freudiani E quindi diciamo Questi sono i miei tre Punti di riferimento Quindi Proust alla grana Eh sì Proust C'entra o non c'entra Con Freud Sì ma C'entra moltissimo Dostoevsky Perché diciamo Uno dei Uno dei Degli autori Che Dostoevsky Che Freud Ha letto moltissimo Che ha studiato Anche perché Molte delle sue teorie Nascono Diciamo dai romanzi Diciamo di Dostoevsky E proprio appunto Dostoevsky Sì ma Proust Nel senso Tipo la traslacrazione Insomma del pensiero Freudiano In letteratura In assoluto Assolutamente sì Cioè questi sono i miei tre Autori Poi chiaramente Ho letto tanti altri Tantissimi E quindi Però Dire di essere ispirata A questo No chiaro Poi insomma è importante Invece Questo appunto Trovo che mi ha fatto Che mi è molto piaciuto Nei racconti che ho letto Intanto sono facili Sono racconti brevi Sono semplici Io amo moltissimo Uno dei miei Autori favoriti È Cortázar Che è il padre Dei racconti brevi Mi piace il linguaggio che usi Quindi si vede che proprio c'è un'impronta personale incredibile Ed è questo poi alla fine che piace Che tu sei te stesso Non cerchi di essere nessun altro Parli del tuo quotidiano Parli della tua realtà E parli col tuo linguaggio Che è fantastico Che poi non è il mio linguaggio Perché il linguaggio diciamo nostro Quanto meno di palermitano Quale mi sento io Il linguaggio che parliamo Per la strada Che parliamo in casa Che parliamo con gli amici Il racconto di Louis Vuitton Bellissimo Cioè dico A parte che poi c'erano Che erano i marmi miscolati Come i mischiati Come invece i marmi mischi Diventano Mescati Ed è vero Leggetelo per favore Se avete l'occasione No troppo carino Anche io l'ho visto Molto 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 carino Che poi E' veridiero Fra parentesi Che insomma Sì ma sono quelli che io racconto Sono tutti fatti Diciamo realmente accaduti Sì 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 I personaggi Sono tutti personaggi veri Ma utilizzo Diciamo uno strumento Che è freudiano Per rimanere a Freud Che è quello Della cosiddetta condensazione La condensazione È un processo Diciamo che Che ha messo a punto Come strumento di analisi Freud Nel 1900 Con l'interpretazione dei sogni Ed è quella cosa Che riguarda La parte onirica Nella quale Ognuno di noi Quando sogna I personaggi dei sogni Non sono dei personaggi reali Ma sono Dei personaggi in genere Che hanno delle componenti Di più persone Che possono essere Del papà Dell'amico Del cugino Del datore di lavoro E vengono tutti condensati E per questo si chiama condensazione In un unico personaggio Quindi diciamo Io mi sono accorto Che quando scrivo Metto insieme Pezzi di personaggi diversi E sono Cioè diventano I miei personaggi letterari Ma nella realtà Non è un personaggio singolo Ma sono più personaggi E quindi nessuno può dire Ma sono io Quello che ha rubato Ma è quello che arriva Di fatto Arriva il fatto Che tu scrivi E che si vede Il tutto il tuo Per il resto Sta nella tua scrittura E musica maestro E se mi La musica Mi ha fatto morire Mi faccio in casa Io ti guardavo E poi c'ha La musica Io non ti ho visto Io non l'ho visto Ecco il nostro regista Dobbiamo Dobbiamo guardarlo spesso Il nostro regista Yeah Non sai che ci vuole Io dico io Facciamo il lancio Sull'intro Va bene Dai lo facciamo Ah bello Samuele Bersani Ok va bene Hai ragione Aspara Basta dirle le cose E qui Molto bravi Siamo simpatiche Sì è vero Noi siamo simpaticissime Mamma mia La pagliaccia Una secchiona Siamo la coppia più bella Siamo la coppia più bella Da Duzza Da Betty Adam S'ha lavorato pure Negli ospedali Io sì E facevo Bello è stupendo E per questo Dada viene da là Perché io avevo Dovevo inventarmi un nome E siccome Come Betty Adam Sai come Joker Esatto E mi sono inventato il nome Sai che cosa Siccome mi Si risuonava sempre la canzone Dada Umpa Io da Dada Umpa No Dada Umpa Cloud Dada Umpa E tutti Io entravo Dada Umpa E i bambini Si divertivano Come pazzo Che bello Perché insomma Sono delle Delle iniziative Meravigliose Infatti vorrei ritornare Ormai sono andata via Per motivi Che sono partita Ho detto vabbè La uscola delle bambine Le panno Sì si le panno Continuano sempre Loro anche Sempre la mia associazione Sì si Tesorini Poi insomma sono là È troppo bello Quello che dai è bellissimo Salutiamo tutti i bambini Tutti i bambini Che si trovano Per una ragione In ospedale Tesorini nostri Ciao E anche i clown Che danno Veramente E anche i cani Che aiutano i bambini Che è meraviglioso Grazie soprattutto A tutte le associazioni Che si veramente Dedicano a questa fascia Di persone più Fragili Che magari insomma Non hanno un ritorno diretto Che è quello che interessa A tutti In Danaro Ma se ce l'hanno C'è un punto Cioè cercano veramente Un riscontro Che meraviglia Si chiama amore O tu lo fai Per un riscontro Proprio umano Di emozioni Ma non lo puoi fare per i soldi Per i soldi Ci sono pochissimi No 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 Te lo comprendo In passato abbiamo avuto Anche queste Delle associazioni Che a scopo di lucro Ma sono quelle Che poi hanno anche Alla fine Infficiato il lavoro Onesto E' inquinato tutto il settore Ed è capitato anche a noi E' capitato anche a noi In modo onesto E' veramente terribile Perché non sanno più Come fare Per fregare il prossimo Sincero Però non fa niente E nel nostro quotidiano Ah voleva via Una Vespa Però non c'entrava in ascensore Ragazzi Volevo dire Vuole fare l'entrata All'amoretti No 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 Vuolevi fare l'entrata All'amoretti Confessa Confessa Però c'è la foto Lì Questa è una foto Fatta a Ballarò Tra l'altro Io vado spesso Invece ho detto Ah un pochino questo Dobbiamo entrare Bell'amore Spacca Spare Spacca Spara Spara Amore Non pensarci più Che cosa vuoi spersare L'amore Spacca Cuore Su Radio In 102 Siamo qui con Andrea Giostra Andrea A proposito di questa canzone Prendo lo spunto Sì Dada tu ci regaleresti Questo racconto Di Andrea Giostra No quello di L'amore secondo Alessandro Sì sempre Ovviamente Ce l'ho qua Ce l'ho qua Scusateci Dateci due Secondini Due Eccolo qua Ah questo Non questo Eh non l'ho letto adesso Non devo leggere L'ho d'impatto Eh vai Questa è tutto improvvisazione Ragazzi Abbraccio Abbraccio Scusatemi La nostra grande Dada Era già passato un anno Da quando per la prima volta Aveva baciato sulle labbra Maria Che si era precipitata Da Piazza Grande Per andarlo ad abbracciare Ai faraioni di Scopello Dove Alessandro Sin da adolescente Passava ogni anno Il mese d'agosto Come si erano amati Come si erano appassionati L'un al sapore morbido E umido dell'altra Come era passato veloce Quell'anno Troppo veloce Intenso Vigoroso Ardente Conosceva bene Come andavano a finire Tutte le storie d'amore Perché le aveva vissute Perché se le era Sentite raccontare Centinaia di volte Dai suoi amici Dalle sue amiche Che con lui Si erano confessati Con gli occhi Con gli occhi Zuppi di lacrime Che triste E c'è l'altro pezzo Che abbiamo Non abbiamo letto Ah perché continua E dice No amore non esiste Una cosa Sì sì Oddio Ve la lasciamo leggere Continuate Voi però Continuala tu Cioè dico È proprio Una visione Disfattista Dell'amore Ma è una visione Assolutamente Secondo me è reale Perché questo racconta Un po' delle esperienze Anche mie Di miei amici Perché alla fine Non so se si può andare più avanti Perché questa parte Secondo me Lei è bravissima Complimenti Grazie Grazie Vediamo se lo riprendiamo Perché questa è la parte Cioè una bella tosta In cui No infatti Ho visto solo quella parte Non ho potuto Continuare Vabbè Non la possiamo Ragazzi Facciamo Comunque C'è comunque una visione Disfattista Dell'amore No no Barbara L'amore è anche Sufferenza Si ho capito C'è il seguito Secondo me Disfattista Realista Realista Perché io penso Che dalla mia esperienza Dall'esperienza Anche di persone Con le quali Ho condiviso Questi racconti Queste confessioni Secondo me Non esiste un amore eterno No Non è come dici tu Può esistere Questo amore eterno Nei nostri sogni Lo diverrà anche real Nei sogni si No no L'amore si trasforma L'aspettativa L'amore si trasforma Ma la passione Del periodo La passione Va bene Ormonare C'è niente Da fare Si interrompe Purtroppo Eh purtroppo Sì ma E che fa Si ricomincia Ma bisogna rigenerare In altri progetti Di vita Certo Ho capito Il film minaro Perché Scusate I film minari Picciotti Niente Dice no Io voglio le emozioni Forti E vai la prima La seconda La terza E quanti ne contiamo Oggi non lo vogliamo sapere Non lo vogliamo sapere Per tutta la vita Di letteratura Dobbiamo parlare Certo Ci mancherebbe Ci mancherebbe Noi siamo Fimmine Quindi siamo Assolutamente Più Pericolose Già donne Siamo Parti romantiche Romanticismo C'è molto Romanticismo Molto Troppo Non tutte le donne Non diciamo tutte Non tutti gli uomini Gasterei Buongiorno Ma tu Che innamorato sei Che Che Ma io non sono Innamorato Quindi non mi pongo Il problema A 12 anni Ma come puoi Sì Gaspari Gaspari Parlevamo anche In genere Non proprio Della donna e dell'uomo Io per esempio La vita Sai Penso sia molto Soggettivo Soprattutto a seconda Della persona Che è di fronte Non puoi Dire In linee generali Quello che È il tuo sentimento Quando pensi All'amore Dipende tutto Dalle persone Che siano di fronte E allora Gaspari Dall'alto dei sui 12 anni Ci hanno dato Una lezione Di vita Grande Gaspari Grande Un applauso È così Ognuno vive È solo l'incontro È l'incontro Di due anime Però La posso dire una cosa Se esplode qualcosa Siccome il periodo Degli armoni È finito Giusto Quindi l'amore Questo buccolico Questo meraviglioso È finito Invece quelle passioni Che Si vengono anche meglio Sono più Intriganti Sono più Vanno un po' più di moda Dice Potendo utilizzare Un termine più soft Quello di La chimica Io dico invece Proprio carnale Il sangue La passione Certo La chimica È anche quello C'è essere la chimica Caspita Diciamo Ci deve essere tutto Ma certo Perché se rimane Solo chimica Non c'è nulla C'è chimica Amore Sentimento Però L'importante È che ti prenda qui Soprattutto E anche qua Il cuore Sì Ma perché Duri la testa Eh sì Tanta testa Deve durare per sempre Solo la testa Hai ragione Eh vabbè 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 Pubblicità Signori e signori Vogliamo che vi Niente È pubblicità I consigli di Radio In Il Teatro Biondo di Palermo Diretto da Pamela Villoresi Comunica che se hai Meno di venticinque anni O sei uno studente Puoi acquistare un abbonamento A undici spettacoli in galleria Con soli Trentacinque euro Se non ho capito male Sono tre euro e venti a spettacolo Sì Hai proprio capito bene Se invece vuoi stare seduto In platea Quattordici spettacoli Li pagherai Settanta euro Allora ragazzi Cosa aspettiamo? Tutti al Teatro Biondo Se volete dare un'occhiata Al programma di teatro Musica e Danza www.teatrobiondo.it C'erano una volta I peli superflui Ora c'è Epil Dream One L'epilazione progressivamente definitiva Più veloce Sicura Efficace Ed economica In promozione per lei A partire da 39 euro E per lui A partire da 49 euro Mai più problemi Di peli superflui Con l'innovativo laser a Diodi Epil Dream One Vieni a provarlo A Centro Starbene In via delle Albi 105 Palermo Centro Starbene Starbene si può Signor Cam Cerco un letto poco ingombrante Sa La mia camera da letto È così piccola Semplice Un letto ridotto Nelle dimensioni Ma con un grande contenitore sotto Così recupera tutto lo spazio Che le serve Che ne pensa? Magari Fatti consigliare Da chi di letti Se ne intende Alla Cam Ogni letto È fatto apposta per te E fino al 19 ottobre Lo acquisti Con uno sconto Del 15% E in più Trasporto e montaggio Sono gratuiti Con i letti Cam È facile ottenere Il tuo spazio organizzato Cam è a Palermo In via Cilea 37 Materassi Letti e reti Cam Da 50 anni Il posto migliore Dove dormire Don Nino Non è un semplice Bar-ristorante Ma un'esperienza Da vivere Con tutti e cinque i sensi Che ti fanno scoprire Come si può mangiare bene E sano Senza rinunciare mai al gusto Don Nino è pronto Per stupirvi Dalla colazione la mattina Alla formula buffet Del pranzo All'aperitivo di ogni sera Ai pranzi di lavoro O con un gelato A tutte le ore Don Nino Total Food Vi aspetta a Palermo In via Vincenzo di Marco 26 B Bag Store Vi invita a visionare La nuova collezione Autunno-Inverno 2019 Con l'occasione Potrete ritirare La Bag Store Card Che vi permetterà Di avere sconti eccezionali Tutto l'anno Sulle collezioni P-Quadro The Bridge Pollini Samsonite E tanto altro Bag Store Arricchitosi di nuovi marchi Come Gas Keyway Borbonese Vi aspetta a Palermo Nei centri commerciali Con Cadoro Forum e La Torre E nel nuovo prestigioso Punto vendita Di Via della Libertà 23 Bag Store Borse Calzature Valigie E accessori di tendenza Radio In La voce della tua città Grate Delle suore E la cosa anche Tra la tradizione Regali Esatto Regali Della martorana E uno dei racconti E uno che Diciamo Ho scritto io Proprio La festa dei morti Ambientato ovviamente Nel mio paese Che è Montalepra Dove Diciamo Io ho vissuto Da bambina Questa festa dei morti Che Come tutti i bambini Di allora Qualcosa Così anche Un intervento Telefoni No no Mi devi ricordare Che arrivano tanti Quei comunicati stampa Così anche telefonicamente Ti mando Poi appena me lo girano Che chiaramente Fanno tutto loro Ti noto il comunicato stampa Di questa giornata Si chiama Federica Non me lo ricordo Vabbè comunque Girami un po' Fammi arrivare l'anno Il cognome Non me lo ricordo Federica Virga Sì Perfetto La conosci? No Non quelli Palermo Pure lei Sì Comunque Palermo È diventata Anche una piazza culturale Interessante Sempre Riugio A Palermo Ultimamente Dal punto di vista Artistica e culturale Io me la sono accorto Quando c'è stato il periodo L'anno scorso Di capitare la cultura italiana Capitare la cultura Sì sì Ma soprattutto Con Manifesta 12 Che è stato Un po' così sottovalutato No non è stato sottovalutato Però è pure vero Che ha lasciato tanto poco Sono stati bravi A mettere insieme Capitare la cultura Manifesta Ma non tanto Diciamo Per gli eventi insieme Ma perché c'è stato Proprio Una quantità di artisti Che sono venuti Da tutto il mondo Perché questo Manifesta È un evento Importantissimo Però Manifesta In altre città Ha lasciato molto Diffici Diciamo Come storico E l'arte È una persona Che segue Le biennali Perché c'è stata Un'organizzazione Un po' affidata Ed è quello Insomma Che la città Poi alla fine Al di là Del momento Di grande Però dico Al di là Di questi aspetti Negativi Che poi ci sono Sempre in qualsiasi cosa Si organizza Perché ovviamente Però sicuramente Ha portato Una quantità Un'attenzione Sulla città Infelizia È una presenza Di artisti Io ho conosciuto Diversi In quel periodo Diciamo Di artisti Contemporanei Che sono venuti qui Che hanno abitato Quell'anno Qui a Palermo Veramente è stato Un risultato Come immagine Come visibilità Per la città No no Incredibile E poi c'è stato Questo veramente Connubio Capitale La cultura E manifesta Che è stato Veramente Credo sarà Un'occasione Irripetibile Rispetto a questo Che sta continuando Per fortuna Perché poi Anche privati Organizzano mostre A parte le gallerie È una piazza interessante Dove ancora si può fare Tanta sperimentazione Insomma Per la seconda È una città Piena Straordinariamente piena Di risorse Che ancora voglia di fare La stessa cosa Dico In città come Milano O Roma Dico Magari la gente Non segue più Così tanto Allora in questo momento In Italia Nessuno Dal puntista Dell'arte Della cultura Può competere con Palermo Ma neanche Milano Torino E Tritu Al di là dell'amore Qui a Radio in 102 E Niente La scelta musicale Del nostro Gaspar E devo Complimentarci Con il nostro Gaspar A tema A tema La trasmissione Veramente Complimenti Abbiamo al telefono Alessia Rotolo Che ci parlerà Del Ballarò Baskers Baskers è l'artista Di strada Quindi Ciao Alessia Come stai? Ciao Ciao a tutti Ciao Raccontaci un po' Questa manifestazione Così invitiamo I nostri ascoltatori A andare Certo Allora Questa manifestazione Nasce quattro anni fa In seno Ad una Ad un'assemblea Cittadina Che era nata Dentro Ballarò A seguito Non so se vi ricordate Il fatto di cronaca Quando diedero fuoco Al pub Quello della legalità Se utente Sì Esatto Quindi all'indomani Di questo Fatto di cronaca Insomma ci fu Un moto Fittadino Qua del quartiere Di cui io faccio anche parte Perché sono pure Io vivo qua a Ballarò E ci siamo tutti riuniti Per cercare di capire Come potevamo Insomma dare anche Un'immagine diversa Di questa città Come poter risollevare Un pochettino Le sorti di Ballarò E È nato questo SOS Ballarò Che Sta per Sost... No Aspettate Non mi vorrei sbagliare Non ti preoccupare Allora Orgoglio C'è sicuramente E poi ci dovrebbe essere Sostenibilità E Non me lo ricordo Non fa niente La granza fantasia Per fare rinascere Ballarò Da questo Da questo SOS Ballarò Poi insomma Sono nate diverse cose Abbiamo incontrato La giunta comunale Un sacco di volte Per Risolvere alcuni problemi Che ci sono qui Che non ve li sto qui a dire Perché insomma Sono plurimi Sì 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 E variegati Concentriamoci In questa iniziativa Del Che è iniziata ieri E che proseguirà Oggi e domani Così invitiamo I nostri ospettatori A partecipare Esatto Sempre insieme a questa Assemblea appunto Nasce anche questa esigenza Di dare un'immagine Diversa di Ballarò E quindi ci siamo interrogati Ma come possiamo fare Insomma A fare concentrare L'attenzione dei palermitani E dei turisti Su Ballarò In una maniera positiva E abbiamo pensato Di fare un basket Perché obiettivamente Gli artisti di strada Si sposano benissimo In questo quartiere Perché diventa Un piccolo cameo Insomma Ci sono otto piazze coinvolte E gli artisti di strada Che arrivano Da tutta Italia E anche Pura internazionale E sono dei giorni Di estrema festa E di gioia Dove i mercatari Insomma Finalmente Non si entrono più Parle in maniera negativa Del mercato E tutto quello che succede qua E quindi insomma Sono momenti Di grande allegria E di giubilo Per tutti Noi intanto Ti facciamo i complimenti E facciamo i complimenti Al comitato Per questa iniziativa Ballarò comunque Devo dire Che va alla grande Insomma Riminiamo I nostri ascoltatori Ad andare Stasera e domani sera Anche domani Tutta la giornata E da oggi Cominciamo alle 16 Quindi Accorrete in massa Ragazzi Grazie Posso dare un consiglio A tutti Gli avventori A Ballarò Basket Recatevi tutti Agli info point Che sono distemmiati Per tutto Ballarò E prendete il programmino Con tutti I vari appuntamenti Che ci sono Nelle piatte Perfetto Grazie Elessia Grazie Ciao Ciao A presto Tu ci vai Io ci vado Spesso Con le foto Con la foto lì E di Ballarò Ci andrò sicuramente Anche perché ci vado Spesso lì Non soltanto a fare la spesa Ma anche Fare colazione Qualche volta Dove fai colazione? Ma soprattutto Ragazzi Dove? Al bar? No Non mi ricordo come si chiama Comunque È uno di quei Bar storici Perché è gestito Da marito e moglie Che sono Diciamo abbastanza grandi Anziani E dai figli E cosa prendi a colazione? A colazione Prendono tutti i palermitani Un cornetto Un caffè No I palermitani Io prendo la stessa cosa I palermitani La mattina Che cosa prendono? Allora qui abbiamo avuto Gente che inizia Una mattinata Alle sette del mattino Con pane con la misa O pane misa Vabbè Ballarò può andare a prendere Pane misa E birra Esatto Dico ragazzi Io le dico sì Quindi Vabbè che ci siano sì Scornetto Niente lui è molto francese Con le croissant No quello sì Perché poi se vuoi Una delle piazzette di Ballarò Vuoi prendere anche Come si chiama Quella che prendono La cesta La caldume La caldume Questa cosa Mai mangiata Non so Io non la voglio neanche mangiare L'unico L'unico piatto Palermitano Che io non ho messaggiato Perché non ci riesco Eh io pure Non so cosa ci sia Però tutto il resto Della cucina di strada Cosiddetta Della cucina popolare Palermitana Quello no Ora ritornando a te Ma ce lo spieghi Che cosa sono i troll Ecco Importante questo Troll Eh quella è stata Diciamo L'esperienza Ho studiato questo fenomeno Perché a un certo punto Nel 2016 Sono stato vittima Di una troll Tra l'altro una persona Che io Diciamo conoscevo Nella realtà Una Conoscevo Nella realtà E non sapevo Come reagire Che a questa Mi scriveva messaggi Su facebook Cioè ti perseguitava Perseguitava Allora ho detto Inizialmente la ignoravo Ogni tanto rispondevo Però ho detto Mi devo capire Cosa devo fare Allora mi sono studiato Ho cominciato a studiare Questo fenomeno E ho visto che La letteratura italiana Nel 2017 Parliamo ovviamente C'era pochissimo Su questo Pochissimi studi Anzi quasi niente E quindi ho letto Un sacco di articoli Diciamo statunitensi In nord europei Tra l'altro Ho visto anche Un bellissimo documentario Che proprio qualche mese Prima che io Cominciassi a cercare Di capire Questa cosa Era stata fatta Un regista Diciamo a nord europeo Non ritengono a fine Su facebook Ovviamente sui social Vari Attribuendo Diciamo Delle cose Non vere Chiaramente Se io ti dico Su facebook Che tu sei Un alato Per non dire altro C'è lei che non ti conosce Che ti conosce Viene il dubbio Se poi c'è un altro Diciamo Allora lì Si mette su Tutto un movimento Comunque la colpa Non è Che è delegittima Poi quella persona Che si tratta Una situazione di difficoltà Comunque Andrea La colpa è L'eccessivo uso Di internet Vabbè Dopo la musica Ci spiegherai Quali sono Ci sono dei metodi Per un attimino Abbiamo Edit Pias Questa te la dedico Edit Pias La cretosa Ma ne siamo Assetua Grande Grande Federico Gaspare Questa però L'ho scelta io L'hai scelta tu? Dai Un bel regalo Mamaneja Amo Assetua Mamaneja Mamaneja Assetua Mamaneja Aditi Piaf Una bellissima canzone Stupendo E comunque Stavo dicendo Questa qua Mi ha perseguitato Per due Cioè ogni volta Che io postavo Cioè io in genere Posto le cose Ma raramente Faccio dei commenti O rispondo Cioè ogni cosa Che postavo Questo Ma è così Quindi bloccarlo Era controporrucente Se la bloccavi È come se tu Lo volessi Escludere dalla discussione Quindi magari Darle ragione No ma in questi casi La cosa che poi Ho capito Leggendo tutti questi studi Ci sono stati fatti Anche gli studi universitari In America Soprattutto Svezia Paesi nord europei Insomma Che si qua È che queste persone Vanno ignorate Da un lato E bloccate Dall'altro lato Quindi non ti devi Mettere in contraddittorio Quello si Quindi o bloccarle Subi O li blocchi O le ignori Ok Quindi non gli deve Assolutamente L'unico modo Per potersi difendere Da queste persone Cioè se entri In contraddittorio Con loro E cominci a rispondere Cioè tu alimenti Ma perché lo vanno Dopo un po' Se tu vedi Perché loro hanno bisogno Di questa visibilità Di sentirsi i protagonisti Attaccando te A un'altra persona Nel momento in cui Tu li ignori Allora c'è Vanno a cercare Un'altra preda Certo Cioè ti mollano E vanno a cercare Qualcun altro Da aggredire Cioè hanno bisogno Di pubblico Chiaramente Cioè hanno bisogno Di manifestare Questa loro personalità Ovviamente malata Ma magari sono soli Esatto La solitudine La malattia Ma se voi vedete Questo documentario Di questo Mi ricordo adesso Come si chiama Questo regista Nord europeo Svedese Credo che sia Un documentario bellissimo C'è il link Che vi ho mandato Perché questo proprio Entra nelle case Di queste qua Perché lui Ne ha conosciuti tantissimi Per capire la dinamica E molti di quelli Una decina Hanno accettato Di essere intervistati E di fare entrare Le telecamere Dentro casa loro Immagino E sono delle persone Diciamo normalissime Ma questa è la cosa Che già Faccio una cosa Tipo Ora ritorniamo sul terreno E poi leggi Leggi l'altra Cartone da Permo E poi chiudiamo Con quella di Buona nonna Lavori Se vuoi me lo leggi tu? No io non so leggere Lei è bravissima No ma là c'è molto siciliano Io lo farò leggere Mo manège a moi Se tu È di piaf Mo manège a moi Mo manège a moi Perché insomma Dico il manège E la giostra In francese E quindi Voilà Allora Troll Come difendersi Da questi elementi Infatti Dicevo Gli internet haters I troll E poi c'è un'altra categoria Sottovalutata Ma che ha creato Tentissimi danni Che sono i cosiddetti I cosiddetti Internet lovers Perché di solito Insomma È devozione Gli internet lovers Tra l'altro c'è un film Degli anni 60 Bellissimo Quando ancora non c'era Internet Che parlava di questi personaggi Chi sono Sono quelle persone Che sia uomini Che donne Che agganciano Le loro vittime Che hanno bisogno Di affetto Di amore Eccetera Eccetera Quindi creano Questo rapporto Di dipendenza online Questo mondo E dopo di che Cominciano a chiedere Dei soldi Eh sì sì Mi ho sentito parlare Cominciano a chiedere Dei soldi Cominciano a chiedere Dei prestiti Cominciano a chiedere Tutta una serie Finché questi soggetti Che sono proprio vittime Subiscono una sorta Di sudditanza psicologica E di dipendenza affettiva Sì Questi soggetti Sia uomini Che donne Per lo più Diciamo Uomini Ma anche Molte signore Anziane Finché a un certo punto Chi si ravvede Va alla polizia Le carabinieri Denuncia il fatto E si scopre Che sono vittime Di questi Però su tardi Dopo che hanno dato Dopo che sono stati massacrati Hanno sperperato Migliaia e migliaia Di euro O di dollari Anche lì Allora questo saggio Che io ho scritto Con altri miei colleghi Che per esempio Questa su internet lovers È di una Diciamo una mia Carissima amica Di Monza Che è una giornalista Professionista Che insieme A un suo amico avvocato Hanno studiato Hanno seguito diversi casi Di queste persone E lei ha scritto proprio Un capitolo Molto lungo Su questo argomento Su questo tema Dal quale bisogna Assolutamente difendersi Questo saggio Come tutti i miei libri Questa è un'altra mia caratteristica Diciamo Che non abbiamo detto Tutto quello che ho scrivo Si legge gratuitamente Diciamo Non è detto Non tutto Però l'hai detto Sì Io sono Diciamo Mi definisco appunto Non che scrive Perché non ho mai pubblicato Con un editore Quindi questa è un'altra cosa Malgrado abbia vinto Insomma Diversi premi Tutto viene pubblicato Sui Quelli di piacere Ma è quello che ti contraddistingo Ormai si pubblicano Si autopubblicano E finanziano Qualsiasi Cioè la qualità È scesa a livelli Proprio drammatici Quindi L'onore a lui Perché piace Perché arriva Perché Vuole condividere Con altri Il suo proprio sapere Perché Sì Leggere Insomma comunque Stai dando Regando il tuo tempo Quindi se la gente Lo legge Perché interessa Ma infatti Quello è il prezzo Secondo me Più alto Che una persona Paga Quando legge una storia Che non è Quindi il tempo È molto più prezioso Secondo me Del denaro Io vado a comprare un libro E poi non lo leggi Che senso ha Ma se lo legge Dedichi 10 minuti Un quarto del tuo tempo È molto più prezioso Dei 10-15-20 euro Che puoi spendere Libreria Per comprare un libro Music Maestro Il volo Il volo E insomma Bello questo attacco Eh sì Oggi è meraviglioso Scusate quanti libri Si stampano in Italia Quanti nuovi titoli Ogni anno Si stampano in Italia Una miriade Tantissimi Sono tutti scrittori Tutti 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 Di testi italiani Non consideriamo Le traduzioni 70.000 nuovi titoli Sai qual è la media Di vendita Di queste 70 Considerato che c'è Al primo posto per dire Camilleri Che ti vende Non lo so È considerato che C'è Andrea Giosta Che vende zero copie Quindi la media Sono 50 copie Per ogni libro Vendute Sai di quante Queste 50 copie Effettivamente Poi vengono lette Da chi le compra Il 10% 5 Pensa Vuol dire che io Pubblico il libro E forse Chi lo leggerà Nella media Ovviamente Saranno 5 persone Cioè io Mio padre Mia madre Mia sorella Mio cugino E basta Io me la suono Io me la canto Ma questo Infatti oggi Scrivere Non significa Salve per alcuni Salve per alcuni Purtroppo Non significa Diventare Dei personaggi In realtà Molti si autofinanziano C'è una politica Assurda Di finanziamenti Alle case di diritto A parte i grandi editori Ovviamente Che hanno Un percorso diverso Ma i piccoli editori In genere Vivono così Se ti pubblicano Un libro Ti fanno pagare Giustamente L'editing Ti fanno pagare L'infaginazione Ma magari Ti facessero pagare L'editing Che magari Non leggi certe cose No Ma c'è tutto L'editing Non è che vuol dire Che loro ti fanno Una valutazione Sulla bontà Del test Ti fanno No C'è certi strafalcioni Che ci sono Ma che errori di grammatica Chi fanno l'editing È una semplice correzione Del test Da un punto di vista Diciamo Grammaticale Ti dico Ti dico C'è chi non lo fa L'editing Forse non lo vanno Però ti fanno pagare Poi i prezzi di mercato Insomma Sono 5-700 euro Ti danno 100 copie E quindi loro ci guadagnano 200-300 euro Con ogni libro Che pubblicano Certo Però Gli editori a pagamento Quindi è un mercato ormai Quindi l'unico modo Per potersi Perché se tu Pubblico un editore Non sei più proprietario Del tuo Il film è un contratto Tu sei editore Tu sei proprietario Della mia Cioè il mio libro Io non posso Cioè voglio regalarlo Devo comprarlo E lo posso regalare E però solamente Se il libro va bene Tu su quel libro Guadagni una miseria No Non guadagni niente Guarda Te lo dico Quindi alla fine No Gli scrittori non guadagni niente Tranne che non sei tu Camilleri Oppure questi Il volo qui a Radio In 102 E parlavamo di questo E vabbè Dei troll Di tutto quello che Ovviamente Ma siamo ormai Aggiunti alla fine Allora Cosa possiamo dire Ai nostri ascoltatori Andrea Dove possono leggere Tutte le tue novelle Eh la c'è la mia pagina Facebook Che si chiama Andrea Giostra Film Oppure il mio profilo Andrea Giostra Insomma Ma poi Insomma sono pubblicati Anche Sono stati pubblicati Diciamo In diversi magazine Appuntate E quindi se loro mettono Andrea Giostra Novelle brevi O racconti Su Google Per esempio Li trovano con molta facilità Comunque dalle mie pagine Facebook Diciamo Recuperano Tutto Quindi hanno la possibilità Di leggere Allora noi Chiuderemo insomma Con una tua Con un tuo testo Che Dada ci regalerà Prima di tutto Volevamo ringraziarti Di essere venuto Grazie a voi Grazie a tutti Insomma ci vediamo Settina Poi Volevo ricordare Un appuntamento Che è iniziato ieri Oggi e domani Allo Spazio Rea Non perdetevi I tre grandi Della pittura Palermitana Quindi Bazzan Dei grandi Non mi viene là Scusa Dei grandi Di piazza E Bazzan Andate ad ascoltare Un trattato di pittura Dai grandi pittori Palermitani Quindi andate Per favore Rea Dalle 18 Alle 22 Mi raccomando E adesso Vi dediziamo Con La nostra Dada Che legge Un testo scritto Dal nostro Andrea Giostra Ok Auguri da Palermo Erano le 8 E 30 Del mattino Di una calda giornata Di giugno E l'aria di Piazza Marina Resa umida Da una cappa africana Ci costringeva A cercare l'ombra Degli splendidi Palazzi nobiliari Che abbracciavano La bellissima villa Alla calza Progettata dal geniale Basile Nella seconda metà Dell'Ottocento Eravamo tutti in cerchio A parlare Nell'attesa di prendere Un buon caffè E di due belle Ed eleganti signore Nordiche Che stavano arrivando A piedi A piedi Lasciando alle loro spalle La cala E la chiesa Di Santa Maria della Catena Da lì La meta La meta Sarebbe stata Il promontorio Di Goethe Nel suo viaggio In Sicilia Aveva definito Il più bello Del mondo Umunti Dove Un 15 luglio Di secoli Prima I miei concittadini Chi in ginocchio Chi a piedi scalzi Per scacciare La peste Che stava decimando Del popolo Pellermitano Si erano trascinati In preghiera Nella grotta Dove erano state ritrovate Le reliquie Della Santuzza Divenuta Per il miracolo Concesso Patrona Indiscussa E venerata Della città Fu un viaggio breve Ed intenso Quello che ci portò Sul pizzo Della collina Un marocchino Lavavetri Scoraggiato Nell'agire Da un cenno Deciso Degli occhi Del guidatore Tornanti Infiniti Di munti Pilligrino Che aprivano Squarci Incantevoli Sul golfo Marinaro E sul porto Industriale Della città Un parcheggiatore Abusivo Dissuaso Nel fermarci Da frasi In dialetto Smozzicate Incomprensibili Ma efficaci Ecco Con lei Mi succede questo Mi succede Che la parte Che vuole Il successo Non riesce A dominare Non è questa Abbiamo svegliato Parte Non è il finale Oggi non è Se chiamo una Finisco io Con gli auguri Di mia nonno Tantenna Noi lo facciamo Per quello Tu non hai capito Questo è veramente Marketing Mamma mia Caro nipotino mio Adesso che hai fatto 18 anni E sei diventato Grande Fai il bravo ragazzo Sia responsabile E maturo Rifletti bene Prima di fare Qualsiasi cosa E non ti avventurare Mai prima di aver Riflettuto sui rischi E sulle conseguenze Di quello che dovrai fare Non frequentare Cattive compagnie Stai solo con ragazzi E ragazze Che possono darti qualcosa E possono farti stare bene Punta al successo Ai grandi Ad ambiziosi traguardi Che possono arricchirti Che arricchire La tua vita E il tuo tempo Avrei voluto Augurarti tutto questo Caro nipotino Invece Io che ho 80 anni Dico Basta con tutte queste minchiate Quello che ti dico È invece questo Goditi la vita Più che puoi Scopati tutte le ragazze Che ti piacciono Picchi sì Un bello picciotto E tu puoi permettere O puoi fare Ho dato una libera interpretazione Gira il mondo E viaggia tanto Finché non ti stanchi E quando sarai stanco Di aiuterti la vita E di viaggiare Troverai una nonna ricca E beda assai E falla innamorare Di farci perdere la testa E il seguito Potete leggerlo su internet Ci vediamo Ciao Ciao a tutti Grazie I consigli di Radio In